A che età hai dato il primo bacio a stampo? 11 anni 11 anni, quindi qualche mese fa insomma E a che età hai dato il primo limone? 12 anni Ma no, sei troppo piccola No, stai detto che tu a 11 anni ti andavi a limonare le tipe in piazza No, stacca, stacca